Alla radice dell'anima, dove il sentimento è istinto, non c'è distinzione tra ciò che è odio e ciò che è amore. Libido, un genere nuovo di suspense, una sottile angoscia dove la bellezza è pericolo e l'amore si cambia in una diabolica arma per evocare le ombre del passato e i fantasmi dei terrori infantili. E io l'ho visto te, e per un momento mi sono sentito come lui. Anch'io ho provato il desiderio di stringerti, di farti male. Mi lasci, mi lasci, lasciami. Brigitte. Un invito alla notte, e dalla notte qualcosa si muove. Un crescendo di suspense mai visto finora sullo schermo esplode in un allucinante finale, illuminando per un attimo la spaventosa realtà. Dominique Boschero, l'enigmatica moglie di un giovane miliardario. Mara Marill, una rivelazione tutta bionda, un continuo invito all'amore. John Charlie Jones, il giovane che ha paura di se stesso. Alan Collins, l'ambigua figura del tutore. In un film nuovo, di rara potenza emotiva, che scava nei più inconfessabili recessi del nostro io. Libido. e Grazie a tutti.